Stefano De Martino prende le redini di Affari Tuoi dopo l'addio di Amadeus e sembra essere stata la mossa più furba della RAI negli ultimi mesi. Il conduttore si è subito ambientato nel format, portando freschezza e ottenendo un grande successo di pubblico e ascolti. Tuttavia c'è una persona che non sembra essere convinta, Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha manifestato la sua nostalgia per Amadeus, nonostante De Martino stia ottenendo ottimi risultati. La scelta della RAI di affidare il programma a De Martino ha diviso il pubblico, ma i numeri da record registrati ogni sera dimostrano il successo del conduttore. Nonostante le opinioni contrastanti, De Martino piace e convince il pubblico, con un coinvolgimento sociale notevole. Rita Dalla Chiesa ha espresso apertamente la sua nostalgia per Amadeus, preferendolo a De Martino. Tuttavia si tratta di un parere personale e il conduttore non sembra essere intimorito da questo. Al momento nessuno dei due conduttori ha commentato la questione. Nonostante le critiche, De Martino continua a ottenere successo con Affari Tuoi, dimostrando di essere all'altezza del ruolo. Resta da vedere se riuscirà a convincere anche Rita Dalla Chiesa e gli altri scettici.